Si è conclusa il Satyagra Minestia per la Repubblica, un'azione di sensibilizzazione promossa dal Comitato Esistono i Diritti per evidenziare i grevi problemi che affliggono gli istituti di pena in Italia, durante la quale, attraverso un digiuno di 24 ore, a staffetta, oltre 30 iscritti al Comitato Esistono i Diritti, tra i quali esponenti del mondo ecclesiastico, della politica, dell'avvocatura, dello spettacolo, hanno manifestato la necessità di una riforma sostanziale del sistema carcerario, significativa l'adesione del garante comunale per i diritti e le persone detenute e la città di Palermo, Pino Apprendi. La forza della verità e della non violenza ha avuto adesioni trasversali, capaci di unire uomini e donne, diverse pestoria, cultura e orientamento politico. Abbiamo lottato per la vita e il diritto e il diritto alla vita, avendo preso atto, purtroppo, dell'aumento di suicidi nelle carceri di detenuti e detenenti, commenta il Presidente del Comitato Gaetano D'Amico.